Ciao Gabriele e questo è un nuovo video e siamo al Pistoia Comics che non sono, iniziamo! Grazie a tutti ragazzi, ora è bella la Ferrari, davvero una casa propria e uno stipendio decente e poi a comprare, è davvero una mese, una al mese ti basta, però una oggi, una domani, a fine anno hai più di 10 sette a casa tua, tanto già qualcosa ho a casa, ne ho più di 10 sette a casa tua. Quello lì non è di serie, l'hanno modificato, questo invece sarebbe un fuori serie, però comunque è un set venduto ogni negozio, ora non c'è più, ho fatto 20.000 esemplari, si e basta! Però è un roller, quando ho capito di là, però ho un'edizione limitata, parlo da un sim, da un ragazzo, un volante, che ha una cosa, la base meccanica è quella, hanno cambiate pneumatici e tutta la scocca, però i motori sono quelli, sistema di traccia di teclare. A vederla sembra più una massa, sembra una doge rialzata, ma non è una doge. Una challenge rialzata. Guarda è bello il suo deserto. Qua si è finito, si si trasforma. No, è rimane così. Questa qui è vintage, di che anno è? Sì, è di anni 2000. Anno 2000? E' una delle prime Formula 1, questa della Tecnic. La Sinter era un'unico, perché non era, non copiava qualche scuola, soltanto queste due. Se abbiamo tutti lasciati, queste due. Sono tutti set da varie centinaia di euro, immagino. Questa è quello che costa un po' meno meno, ma sono bui cento novembre. Non è proprio, hanno acquisito valori con il tempo. Con la prima volta, questo è un'autorica, una prima volta, non è un'autorica. Un'autorica è moltissima. Per questo è un'autorica. Oltre, l'autorica è un'autorica, è un'autorica. Per questo è un'autorica, però non è un'autorica, ma è un'autorica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.